Arrivo lì quasi dietro il viaretto, vedo un traccello, non so perché, lo scappa con un paio. Perché la nostra sensibilità ha perso un po' di attenzione sulle storie lineari che cominciano da Eval Manzetta. Io stai vedendo quando le immagini sono belle anche, le schegge, le cose, però è come se mi stacco da una situazione reale. La prima domanda è proprio questa, cioè quanto e come il teatro, la pratica scenica è servita nella costruzione, nella definizione, nella ricerca della propria identità. La cosa bella del teatro è che ti costringe a uscire. Non puoi stare in sala propria, devi uscire. Io stavo pensando molto a quello che è l'intero di teatro, perché non siamo filmati, o perché non siamo scrittori, perché non siamo politici, perché non siamo compagni, perché non siamo compagni, perché stiamo facendo quello che stiamo facendo. e ho sentito, 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 che il teatro è l'impossibilità di essere l'impossibile. Siete sempre voi, figlie carissime, la mia grande ossessione, e la mia grande illusione.